Numeri sempre più ballerini così come ormai è diventato un balletto quello dei colori e delle fasce di rischio. In una sola settimana la Puglia è passata dal 37 per cento di occupazione dei letti di terapia intensiva da parte di pazienti positivi al coronavirus di venerdì scorso al 28 per cento di lunedì dopo la lettifica dei dati comunicati dal Dipartimento Salute al Ministero per toccare quota 29 per cento nella rilevazione del 10 febbraio. Un saliscendi che al momento ha riportato la nostra regione in fascia gialla su decisione del Ministero della Salute senza che la stessa decisione sia stata accolta favorevolmente dall'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco. Il nuovo dato dell'Agenas l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali lascia sotto la cosiddetta soglia critica il tasso di occupazione dei letti di intensiva a livello nazionale fissato al 30 per cento ma fa registrare un ulteriore incremento dell'occupazione dei posti letto in area medica da parte di pazienti positivi al coronavirus. In questo caso si passa dal 41 al 42 per cento due punti percentuali al di sopra della soglia critica nazionale. Numeri confortanti invece arrivano dal consueto monitoraggio della Fondazione Gimbe. Per la terza settimana consecutiva infatti si riduce l'aumento dei nuovi casi covid in Puglia. Dal 3 al 9 febbraio si è registrato un incremento percentuale dei nuovi casi settimanali del 4,8 per cento mentre la settimana precedente l'aumento era stato del 5,7 e due settimane fa del 6,2. Quindi pur essendoci una circolazione del covid-19 la curva epidemiologica è in flessione. In riduzione anche il dato relativo all'incidenza passata da 341 casi positivi ogni 100.000 abitanti a 320. Analizzando il trend provinciale è sempre il territorio di Taranto quello che registra il maggiore incremento percentuale dei casi dal 3 al 9 febbraio più 7,6 per cento e la maggiore incidenza dal 26 gennaio al 9 febbraio con 425 positivi ogni 100.000 abitanti.